Alleluia. Tuo trono, Signore. Parola per incoraggiare, parola per edificare, Signore. Parola di salvezza, Signore. Parola di amore, di pace, Padre. Signore, io ti chiedo, Spirito Santo di Dio, che tu possa, Signore, abbondare nella nostra vita, Signore. Signore, meno di me, Signore, più di te, Signore, più della tua luce e grazie, Signore, per questo cielo che già è aperto, Signore, su di noi, Signore. Grazie, Signore, per le benedizioni, Signore, spirituali, Signore, perché quella materiale, Signore, tu hai già provveduto, Signore. Io ti ringrazio, Papà, e ti chiedo e prendo autorità, Signore, che tu mi hai dato già su ogni spirito contrario, Signore, su ogni spirito, Signore, di disturbo, Signore, perché solamente tu, Spirito Santo, sei benvenuto in questo luogo. Papà, apri le nostre menti, apri le nostre orecchie, Signore, e il nostro cuore, Signore, affinché noi possiamo ricevere, Signore, questa parola per fare breccia nella nostra vita, affinché noi possiamo essere obbedienti, Signore, e compiere tutto quello che tu vuoi fare, la tua volontà in questa terra. Nel nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Allora, oggi inizierò con Prima Pietro 2.9. Come avete già visto, il titolo è Una estirpelletta. Una estirpelletta. Che vuol dire una estirpelletta? Una generazione eletta, un popolo eletto, scelto da Dio. Lui ha scelto ognuno di noi. Ha messo da parte. Ha separato. Ha detto, non fa niente quello che tu hai fatto prima. Io voglio sapere ora. Io voglio sapere oggi. Lui ha cambiato. È tornato i nostri peccati. Ha dato vesti nuove. Ci ha lavato. È remito. Ha detto, vai. Quindi questa cosa che noi ancora stiamo pensando nei nostri peccati. Non dobbiamo pensare più. È stato annullato. Dal momento in cui tu lascia la tua vita nella mano dei Signori, tu hai già una nuova creatura. Hai dato già un passo di fede. Il problema è quando noi torniamo indietro. a fare tutto quello che noi facevamo prima di conoscere il Signore. È lì il problema. È lì che il Signore questa mattina vuole dire basta, basta vivere il passato. Eravate schiavi nell'Egitto. Giusto? eravamo schiavi di un qualcosa. Droga, paura, depressione. Non lo so. Visi. Non lo so qual è stato il legame. No? La prisionia. Ma questa mattina il Signore vuole ricordare che lui è già torto di lì. È torto di quella tenebra. È torto di quelle di quel mondo oscuro. Per vivere un nuovo. Lui ti chiama a essere una generazione santa. Un popolo santo. sacerdozio santo. Ma tu dici ma io non mi sento santa. Sa perché molte volte non ci sentiamo santo? Sa perché? Non perché noi siamo peccatori. Ma perché ancora non abbiamo preso la nostra identità in Cristo. non ancora riconosciamo il nostro papà come nostro papà. Sappiamo che lui è il nostro papà. Giusto? Però molte volte abbiamo paura, vergogna di andare in intimità con lui. Quante volte, io parlo per me, no? mio papà, mio papà è un uomo troppo serio, no? Reservato. Non era quelli papà che veniva, abbracciava, gioiva come tutti i papà nel suo momento. Però era molto timido, no? Magari anche lui voleva dare amore, ma non sapeva come dare amore. E io questa cosa non capivo prima. Diceva, caspita, perché papà non dà amore? come si deve. Magari l'amore che poteva avere di mio papà ce l'ho dai zii, no? Veniva mio zio, giocava, faceva delle cose bellissime, no? Con noi, si buttava per terra. Io diceva, caspita, perché mio papà non è così? Allora mio papà non mi ama. Allora mio papà non ama i suoi figli, no? E quella cosa ho portato per tanto tempo nella mia vita. fine che un giorno ho conosciuto Gesù. E nel stesso modo come mi comportava con mio papà, io mi comportava con Gesù. Avevo vergogna, aveva paura di andare dal Signore, no? Magari pregavo e stava nella mia intimità, ma lontana. Da lontana. Da lontano parlava con lui, no? Ma aveva sempre quel timore di esprimere qualcosa di diverso, no? Di aprire di più il mio cuore. E un giorno, ne uno dei miei deserti, perché noi, credenti, non pensare, perché il momento che tu dici, va bene, ma io ho già lasciato la vita del Signore, perché le cose non cambiano? Perché ancora tanti problemi? Il Signore dice che anche se noi lo accettiamo con tutto il nostro cuore, dobbiamo passare ancora nei deserti, per tribolazione, perché il mondo è il maligno. Il mondo che reina ancora è il principe del male. Con la permissione del Signore. Attenzione, con la permissione del Signore. E tu dici, ma perché il Signore ancora permette che l'inimico fa queste cose? Forza. Perché ancora stanno le persone che fanno la sua volontà. Non la volontà dei padri, ma la volontà di Lui. Quindi danno così forza per Lui gestire la loro vita. Per questo il Signore ancora sta dando un tempo a queste persone da ravvedersi. Tornare dal suo vero Padre, che è Dio. Amen? E un giorno ho detto, papà, io voglio di più. Io voglio avere più intimità con te, Signore. Perché la nostra intimità con il Signore è un matrimonio, chiesa. È un matrimonio. Quando io, prima di sposarmi, no? O mio marito, o tu sposare il tuo sposo, devo avere prima una conoscenza, giusto? Devo conoscere prima, per dopo avere una intimità maggiore. È così? La fiducia, né? E perfine la fedeltà. Per questo il matrimonio deve essere perfetto quando c'è Gesù, che è la corda di tre capi. È quello che sostiene, è la base, è l'essenza di un matrimonio. Quando manca Gesù nel matrimonio, il matrimonio è come quella casa sulla sabbia, che è il primo vento. Perché che cosa succede? Manca fiducia, rispetto, autoestima, constanza. E quando mancano queste cose nel matrimonio, giustamente, prima o poi, si disfase questi matrimoni. E così è anche negli spirituali. Se noi non siamo firmi, costanti, fedeli con il Signore, il primo problema porta i credenti a molare, a avere paura, mancanza di identità. Ma il Signore questa mattina sta dicendo, figlio, io ci sono, io ci sono. Vi ho già scelto. Cosa manca? Cosa manca? Non c'è più tempo. Non c'è più tempo. Il sposo sta tornando. Il sposo sta tornando. E la sua esposa è già pronta? O farà come la esposa del mondo, che ha bisogno di tempo? No? Ma il tempo è già passato. Il mondo fuori grida. Noi dobbiamo essere la diversità. No? Non importa il tempo. Ah, ma io sono da poco in chiesa. Ah, ma io sono da tanto. No. Non importa il tuo tempo. Perché il Signore è già fatto. Il Signore non importa se lei sta da un anno, se quello è stato due giorni, se quello è stato da dieci anni. Non conta. Quello che conta, quello che è base di tutto, è la intimità, è la fedeltà, è la constanza della cosa. Perché io posso stare un giorno, no? in chiesa o nella mia vita spirituale, ma stare lì, fedele e costante con il Signore. No? Sempre in preghiera, in spirito, in verità, adorando e glorificando il suo nome. ma posso stare dieci anni in chiesa, vinti anni in chiesa, ma del Signore non voglio sapere nulla. Non sono ancora obbedienti. Non sto ancora facendo la sua volontà. Non prego, non leggo. Non c'è rinuncia. Il Signore questa mattina sta chiedendo, ma c'è rinuncia? Che cosa manca per rinunciare quello che ti fa male? Cosa manca per ancora lasciare tutto quello che vi faceva male prima? Perché tornare indietro? Perché tornare a fare quello che faceva prima? E lui dice, se io vengo oggi, siete pronti? O siete pronti a parola? Ah, ma oggi sono venuto nel culto della mattina, Signore. E quindi? Ma il tuo cuore ancora sta pieno di magua? Il tuo cuore sta ancora pieno di mancanza di perdono? I tuoi pensieri ancora sono pensieri cattivi? Hai capito? Lui ti guarda. Lui sa ancora. E sta dando tempo a un e uno di noi. Darà a vedersi. Sa perché, chiesa? Perché se non diamo questo passo, sai che cosa succede? Saremo sempre il po' eletto, il popolo scelto da Dio. Ma la parola dice che tanti saranno chiamati, ma pochi, ma pochi sono eletti. Allora leggiamo quello che sta iscritto nella parola di Dio. Ma voi siete una estirpeletta, un sacerdocio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato. Proclamare. Proclamare le virtù. Stiamo proclamando la virtù? Stiamo andando fuori, come hai fatto le persone prima di noi, o le persone che sono obbedienti, a dire, tu lo sai che il Signore può guarire? Tu lo sai che il Signore ti può liberare? Stiamo andando fuori? Lo sai che Gesù ti ama così come sei? Stiamo andando fuori a proclamare queste virtù? Tu lo sai che il stesso Gesù di prima è lo stesso Gesù di oggi? Stiamo andando fuori a dire queste cose, Chiesa? Perché? E se chiediamo a ognuno, sai che cosa dirà? Ah, non so cosa dire. Ah, non so cosa fare. Ah, non sono pronto. E' così? Questa mattina il Signore sta dicendo, non sei tu che fai l'opera. Io già vi ho lasciato l'Espirito Santo. Dovete solamente essere obbedienti alla sua voce. Lasciare che sia Lui a guidare i tuoi passi. Sì, è importante conoscere la parola. Se io non conosco la parola, io non conosco la mente di Cristo. Perché la parola di Dio è il pensiero di Dio. Io non posso dire che conosco Dio e non conosco la sua parola. Non posso. Conoscere per vivere. Perché la parola stessa dice che la letra uscide. Ma lo Espirito vivifica. Quindi è importante conoscere la parola. Ma mettere in pratica. Non serve venire in chiesa solo a ascoltare la parola e due minuti dopo che cosa hai detto? Qual è il verso? Hai capito perché noi chiediamo è portato la Bibbia? È portato anche nel telefonino. Se non vuoi portare il cartaccio anche se è meglio il cartaccio perché è bello a segnalare e dici Madonna ho letto questo. No, è quello che ho ricevuto questa mattina. È bello. Ma se io non porto la mia arma lascio a casa dentro della borsa io sto già dando un passo sbagliato nella mattina. Hai capito? Perché sto lasciando da parte la mia arma che è la parola di Cristo. Prendiamo questa questa parola non idolatrare la Bibbia ma prende come un tesoro. Mangiamo adesso perché domani non possiamo più prenderla. Nel futuro sarà torto questo questo prezioso tesoro. Lo sapete che già in tanti paesi è vietato leggere la Bibbia sapete no? Però noi siamo un popolo libero ancora possiamo leggere possiamo gridare che c'è un Dio un Dio vivo un Dio che pone cosa possiamo ancora andare a casa dei fratelli e fare un studio ancora con la Bibbia hai capito? Possiamo ancora proclamate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce stiamo vivendo la sua meravigliosa luce e stiamo portando luce nella tenebre stiamo portando chiesa seggiamo sinceri onesti con noi stessi basta si lamentare no? basta piangere addosso e dire no non sono capaci no? Estando una persona pronta per ti aiutare c'è un gruppo c'è un pastore c'è il conduttore che magari ti dice io non riesco a capire quella parola vieni vieni qua ti aiuto io manca interesse io ho una vita che non ricevo un mensaggio per dire Claudia mi puoi aiutare in questi versi che non riesco a capire allora siamo tutti arrivati già siamo già tutti arrivati nessuno è arrivato anche io ancora studio anche io ancora chiedo al mio pastore pastore mi può fare capire meglio queste cose perché non voglio sbagliare ancora chiedo stiamo ancora facendo una scuola biblica perché stiamo studiando già da due anni e non mi vergogno anzi sono gioiosa quante cose belle stiamo imparando è vero quante cose belle perché questa è la chiesa la unione la unità imparare insieme crescere insieme molte volte quando noi vogliamo dare lo stesso latte no i bambini i bambini dicono no non voglio più queste latte ma no non voglio mangiare più questa cosa no c'è presente quando tu prepara due giorni la stessa pasta no di nuovo pasta tono è così però se tu non mangia quella pasta e tono avrà fame dopo giusto e dopo quale sto per il primo pensiero no ora vado a mangiare quella pasta e tono perché non fa niente che ho mangiato ieri ma stasera la mia fame è così quindi non regettare il latte che il signore ci sta dando questa mattina anche se tu hai già bevuto ieri bevi di nuovo bevi di nuovo perché i bambini durante sei mesi beve ancora il latte della mamma giusto per dopo essere esversato giusto così si dice per dopo mangiare la prima papina no prima pastina solida e dopo mangerà la carne la pastina più la pastina secca è così mamma Isabel è così è così anche noi ma dobbiamo almeno piangere per dire vuole latte vuole latte sembra che siamo tutti sassi nessuno chiede più latte siamo già tutti conoscenti della parola è così Giulia manca ancora bere latte vero quindi beviamo il latte chiediamo papà vuole più latte hai visto pure lui ha detto vuole più latte gloria a Dio Dio meraviglioso il signore chiama anche a moltiplicare come nella parabola nella parola della moltiplicazione dei pani dei pesci dobbiamo moltiplicare quello che noi riceviamo i pani e i pesci che cosa significa i pani quale significato del pane la parola i pesci che cosa rappresenta il proprio Cristo il suo corpo no quindi quando noi vediamo i pesci piccolini nelle macchine dei cristiani oh quelli quelli è un credente quelli è un cristiano è così quasi tutte le macchine c'è il pesciolino lì per rappresentare quello che noi siamo è così siamo orgogliosi di dire che noi siamo un popolo hai letto eh una frase a Gesù gloria a Dio alleluia Dio è meraviglioso chiesa quindi noi siamo chiamati a portare fuori le virtù di Cristo rappresentare lui come usando la potenza dello Spirito Santo e tu dici Clogia ma come posso fare questo non devi fare tanto basta il primo passo pregare parlare del piano di salvezza guarire liberare ci hai dato autorità ci hai dato già autorità ma se noi non abbiamo autorità nella nostra vita come posso andare fuori a fare con gli altri è così come posso fare gli altri se io ancora non riesco a fare nella mia vita come posso parlare di guarigione se io ancora sono malata come posso parlare di libertà se ancora sono legata ancora fumo ancora bevo ancora ammazzo ancora mi drogo ancora mi prostituisco perché la prostituzione non è solo fisico la prostituzione è anche un pensiero la prostituzione è anche quello che tu vedi sta guardando le telenovela sta guardando il giornale perché basta poco basta poco perché oggi è quello che la tv fa vedere io oltre giorno ho visto una intervista di un fratello io mi invergogno di essere brasiliano oddio io no io sono orgogliosa di essere brasiliana magari mi invergogno dell'attitudine di tanti brasiliani così come se sono italiana mi invergogno dell'attitudine di qualche fratello italiano allora c'è un topo di una musica c'è una cantante che sta nel topo nel topo quella che le canzoni più visualizzate vede cristiani le persone che ballano che si buttano per terra come se fosse le serpenti io dico Dio santo hai visto se sta nel topo voglio dire che è quello che sta alimentando la mente delle persone è quello che le persone stanno desiderando no brutto veramente brutto io quando inizio a ascoltare quella musica guarda mia figlia e dice spegni il telefono però quando sto vicino e quando non sto vicino hai capito la importanza di istruire l'altro iniziando prima della casa nostra perché quando noi parliamo di queste cose le persone stai giugando stai giugando noi non stiamo giugando ma anche se stiamo giugando la parola dice che noi devemo giudicare quello che è male non la persona ma quelli atto noi siamo chiamati a questo perché se io non faccio io sono complice ok la luce devi denunciare la tenebra per carità preghiamo per questa cantante affinché lei possa essere d'esempio non per portare tenebra a casa delle persone ma portare la luce perché sai quante bambini quante donne pure maschio che si buttano per terra a fare quelle ballette orrendo orrendo la Babilonia la Babilonia stiamo vivendo la Babilonia è triste il diacoro miliardi di visualizzazioni non so quanti milioni di persone a guardare e quando noi parliamo della parola di Dio subito appunto noi dito ma solo di Dio sapete parlare e che devo parlare io devo parlare di un qualcosa che porta frutto perché quello che noi parliamo deve portare salvezza libertà pace otto giorni facevo un video che parlava di pace perché parlare di pace quando c'è la guerra e che cosa devo parlare di guerra e di che cosa ti aiuto se io continuo a parlare di guerra no io devo parlare di pace perché noi siamo chiamati a parlare di pace perché è un frutto è un frutto del Spirito Santo io non posso parlare di quello che non mi appartiene io devo parlare di amore io devo parlare di libertà e tu dici ma io non so parlare le leggi sta tutto pronto è tutto compiuto è già tutto compiuto chiesa non dobbiamo dare il nostro è già tutto fatto giusto leggiamo Apocalisse 5 9 14 essi cantavano un cantico nuovo dicendo tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigili perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di un'altra tribù lingua popolo e nazioni hai visto la promessa e ne hai fatto per il nostro Dio un regno di sacerdoti e rigenerano sulla terra è già fatto lui non sta guardando quello che tu sei lui sta guardando quello che tu è ora quello che tu eri non importa è quello che tu sei adesso sei fedele sei costante ma non riesco ma sta almeno cercando perché quello è importante almeno provare no il signore non vuole solo l'ottogiorno parlava perché il titolo è cambiato perché io volevo parlare dei credenti e cristiano perché c'è una differenza però parla credente cristiano va bene ho capito preghiamo troppo e il signore mi ha dato un verso la stirpelletta perché c'è una differenza di essere credente cristiano e sappiamo già qual è la differenza che non basta solo credere non basta perché anche i demoni credono e tremono ma essere cristiano essere discepoli è diverso c'è un comandamento c'è un comandamento e il signore questa mattina sta dicendo basta fare finta di niente perché conoscete già la verità io posso capire un che ancora non conosce ma il signore sta dicendo tu già conosci la verità io mi sono già rivelato a te tu mi hai accettato cosa manca cosa manca e sta vivendo ancora un momento di malattia nella tua vita prende autorità caccia via cosa ti serve portati lavoro desidera un nuovo lavoro prende autorità cosa ti manca spiritualmente si sente stanco oppressi prende autorità ci hai dato già o faremo come il popolo ancora d'Egitto che con tutto che vedeva la gloria di Dio ancora si lamentava io non voglio più Imana signore ma di nuovo Imana ho mangiato già la mattina che cosa vuole noi vogliamo carne volete carne dai ha mandato carne ma sai che cosa ha fatto il popolo ha mangiato a fine la fine quando non ce la faceva più uscivano già per gli occhi la carne si Giulia mangiavano 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 e sai che cosa è fatto i signori va a leggere i numeri va a leggere i numeri per vedere che cosa è successo con queste persone che hanno bramato solamente il desiderio della carne molte volte stiamo guardando troppo il desiderio della nostra carne lasciando da parte il nostro spirito la nostra anima che è la cosa più importante è la cosa più importante perché la carne rimane ma l'anima è eterna ricordati di questo la tua anima è preziosa è eterna decide tu dove vuoi andare non per opera non per opera ma per grazia è già data una libertà siamo noi no padrone della nostra vita siamo noi satana ti offre il piatto tu mangia se vuole non c'è più scusa ah ma non riesco sì riesci constanza posizione prendi posizione perché oggi se si appresenta il male e tu ancora non stai firme con il signore il male ti porta scusa chiesa scusa se parlo io devo parlare come ho detto noi non devemo essere i credenti Nutella no fa pure male perché c'è diabete è vero giù no basta il credente Nutella che vuoi tutto dolce tutto bello il signore è amore ma è anche giustizia il signore è amore ma è anche verità Gesù era quello che è più parlato di inferno nel suo ministerio eh eh Gesù e noi come discepoli di Gesù dobbiamo parlare la verità esiste cielo e inferno decide dove vuoi andare Claudia ma io sto andando bene sto facendo tutte le cose come si deve guardati visitati vai dentro nel tuo intimo fai oggi oggi essi di qua oggi chiesa già guardando a te stesso e dicendo signore io non voglio più il passato io non voglio più le tenebra io non voglio più la tenebra nella mia vita signore io voglio luce perché è triste spinete il telefono chiesa è triste quando vediamo i fratelli che torno indietro lasciano tutto per vivere il mondo ancora è triste sì il figlio prodigo ma non prendiamo troppo a serie questa storia del figlio prodigo perché sì quell'uomo è sbagliato una volta una volta ha avuto il coraggio di lasciare tutto e andare in mondo una volta giusto? la parola non dice che è andato una volta il papà è andato lì è cambiato è andato di nuovo è cambiato no una volta invece c'è persone che va e vieni va e vieni vai con i porci mangi e poi torna non basta non c'è più tempo di giocare non c'è più tempo e basta che guardiamo quello che sta succedendo nel mondo nei tempi la guerra molti paesi stanno già i terremoti magari non sentiamo ma sta già i terremoti vediamo già figlio che si alza contro padre e madre uscidono padre e madre come sta scritto? tutto quello che sta scritto che legge la parola di Dio sa che quello che sta succedendo sta succedendo oggi sta succedendo fratello non è una cosa avvenire sta già succedendo e noi che aspettiamo? perché la parola dice che noi non sappiamo quando quando arriverà il Signore lui verrà come ladro verrà come ladro come viene ladro? nel silenzio quando tu me ne aspetta il ladro non si avvisa che viene a casa tua a rubare avvisa così sarà la venuta del Signore lui arriverà quando tu me ne aspetta e noi siamo pronti a fare la sua volontà o stiamo ancora a giocare di essere cristiano? leggiamo Tito io ho scritto ma non sto leggendo niente perché io lascio che sia il Signore a parlare attraverso la mia bocca non voglio leggere e le ha dato a te stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che le appartenga vede vede che il Signore che hai fatto lui ha dato se stesso per noi per riscattarci da un'iniquità è portato un'iniquità ma tu vuoi ancora vivere l'iniquità? perché quando tu vivi ancora in iniquità vivi ancora i peccati è come se tu stavi rilegando tutto quello che lui ha fatto quando noi vogliamo fare quello di nuovo che il Signore è già fatto nella nostra vita no? vogliamo tornare indietro noi noi stiamo rilegando questa croce noi chiesa stiamo rilegando questa croce zelante nelle opere buona siete zelante nelle opere siamo zelante stiamo zelando possiamo prendere con amore quello che il Signore ci hai dato molti vogliono sapere già la sua chiamata ai ma perché cosa sono chiamato per essere pastore per essere evangelista per essere dottore per essere cantanti dimentica il vero chiamato sì certo il Ministero ci sta per una ordine in chiesa però il Signore ci ha dato un mandato più grande più bello ancora che è quello di andare fuori a rappresentare lui questa è la vera chiamata e non importa se tu sei evangelista se tu sei dottore non importa perché chi fa l'opera è il Spirito Santo io non vado lì fuori a predicare in nome di Cristo perché sono solo ma evangelista o perché sono un pastore perché sono un dottore perché sono cantante no perché sono sacerdoti perché sono ambacciatore perché sono una cristiana è questa è l'identità che dobbiamo prendere dal Signore e poi tutto il resto il Signore ci darà nel momento giusto loderà e glorificherà il Signore nel momento giusto non cantare perché non siamo cantanti lodare e glorificare il nome del Signore nel momento giusto evangelizzare siamo tutti chiamati a evangelizzare io non bisogna essere un evangelista per evangelizzare perché sono già chiamata a evangelizzare attenzione ah ma c'è tanto già c'è evangelista in chiesa no chiesa no no stanno le persone che hanno il chiamato di evangelista ma anche noi siamo chiamati a evangelizzare insieme a lui intercedendo no aiutando con le opere non fa niente anche qualsiasi cosa che fate è già di aiuto ma siamo tutti chiamati tutti a fare questo atti badate voi stessi e a tutto igreggio e in mezzo al quale lo spirito santo vi ha costituiti vescovi per pacere la chiesa di Dio che lei ha acquistata con il proprio sangue vede vede l'invito del Signore qua non sta dicendo badate a voi stessi tipo ma costituirci i vescovi no lui sta chiamando tutti lui sta chiamando una persona badate a voi stessi lui sta dicendo solo pastore evangelista ma tutti noi facciamo parte della chiesa tutti noi dobbiamo vegliare prendere zelo della chiesa hai capito tutti 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 il Signore non chiama per stare lì seduto a udire la sua parola il Signore vuoi facettori quelli che vanno quelli che fanno un qualcosa per il regno piccolo o grande non importa perché se io non sono fedele né piccolo il Signore non mi darà mai le cose grandi mai voglia stare seduto perché se io non sono fedele né poche cose che il Signore mi dà la disposizione per operare non sarò mai fedele nelle cose grandi mai e lui è comprato con caro presso caro presso in quella cruce è versato quel sangue per te per me per tutti esodo oggi leggiamo i versi perché non voglio parlare di me io voglio parlare di quello che sta nella parola amè mi sarete un regno di sacerdoti una nazione santa queste sono le sue parole che dirà ai figli dell'Israele che rappresenta oggi i figli dell'Israele noi noi siamo il suo popolo noi chi sa prima i sacerdoti veniva veniva delle stirpe di Aaron no delle stirpe di Aaron quindi per andare lì nel tabernacolo doveva essere le vita doveva appartenere Aaron ma Gesù che cosa hai fatto ti hai dato il diritto anche tu di andare lì nella presenza nel tabernacolo hai capito perché noi siamo sacerdoti regali perché Gesù ha già dato questo diritto anche tu puoi andare nei poteri anche tu puoi andare lì glorificare adorare dare il suo meglio offrire il suo meglio al Signore prima ammassavano gli animali facevano tutte quelle cose no il 10% della della collietta finito oggi quello che il Signore vuole è il nostro meglio qual è il tuo meglio è pregare è intercedere è evangelizzare è laudare dai dai il tuo meglio dai il tuo meglio benedisce la tua chiesa benedisce la tua famiglia amè gloria a Dio sta disegnando edificazione chiesa non voglio essere pesante gloria a Dio da posto bello alleluia romani alleluia gloria a Dio ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare e come potranno sentirle parlare se non c'è chi lo annunzi hai visto il chiamato come che quella persona che io vado a fare un dialogo che ho conosciuto parlerà di Gesù parlerà di Dio parlerà della parola se ancora nessuno l'ha annunziato giusto come se non faccio io che siamo già eletta quando dico eletta chiesa non siamo arrivati eletta perché siamo un po' certo no camminando in santità siamo tutti peccatori ma camminando in santità non siamo tutti santi camminando perché la chiesa è la unione dei peccatori tutti qua siamo stati peccatori quindi non c'è non ci sentiamo più santi di quello perché stiamo magari sopra il pubito a parlare della parola di Dio siamo più santi di voi siamo tutti uguali ok c'è chi impecca c'è chi non pecca c'è chi pecca di meno c'è chi pecca di più ma siamo tutti peccatori lavate i remiti no certo separati per portare la buona novella amè e come non saremo se non sono mandati come è scritto quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano le buone notizie ah hai visto non si sentire giudicato perché sempre a parlare di Gesù sempre a portare la parola non si sentire offeso sentite onorati io mi sento onorata io quando prendo il mio telefonino che devo leggere la parola di Dio io mi sento onorata di signore io so che sto facendo breccia nel cuore di qualcuno perché tu mi hai dato questa parola signore tu conosci tu sai che deve ricevere quella parola e la risposta viene dopo chiesa è proprio quando noi non vogliamo parlare non si non si non si oggi non faccio truco oggi capire sta così vai prende perché quem obedece è giudice come Isabel chi obedece c'è giudice va bene è un gioco di parola lasciami stare è complicato gloria a Dio ma non tutti hanno obedece alla buona notizia Isaia infatti dice signore chi ha creduto alla nostra predicazione la nostra predicazione che viene da te perché se noi parliamo del nostro non dà frutto ma quando noi parliamo della parola di Dio sono convinta 100% che i semi stanno già lì che poi uno vuole regare bene se non vuole regare non possiamo fare niente noi facciamo quello che lui dice di fare predichiamo portiamo la parola poi se uno vuole ascoltare gloria a Dio amén così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene della parola di Dio non parliamo di noi parliamo del Signore otto giorni nella scuola biblica avevamo difficoltà di dire quello che eravamo ed è quello che siamo perché stavamo cercando le parole giuste no volevamo rappresentare un qualcosa fantasiare ma quando noi abbiamo tolto quella maschera e abbiamo detto quello che noi eravamo e quello che noi siamo quanti pianto quanti pianto Maria quanti pianti ogni testimonianza è stato da brividi ogni testimonianza è stato di stimolo ed edificazione è completa completa perché quello che ha vissuto il fratello mi tocca mi completa quello che ha vissuto la sorella Dio santo grazie padre perché ne quello che tu hai fatto se tu hai fatto quello che farà anche con me signore c'è ancora speranza c'è ancora speranza hai capito fratello non ci dobbiamo invergognare di quello che noi eravamo no anzi dobbiamo dire io una cosa so che prima era drogata so da un esempio era drogata della sigaretta io prima era drogata oggi non sono più io prima viveva nella tenebra oggi io conosco riconosco la luce no è quello che dobbiamo andare fuori a parlare io so che lo stesso Gesù che è fatto nella mia vita che ha riempito il mio cuore di amore è lo stesso che oggi vuoi fare breccia nel tuo cuore darlo apri 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 il tuo cuore ci senti amato ci senti amato è quello che dobbiamo andare fuori ehi esce di questa di questa vita di depressione basta prendere quelle compresse basta basta c'è una parola che guarisci basta è quello che dobbiamo fare nostro piccolo la verità sa che sta iscritto sta iscritto che quello è cieco tornate a vedere sta iscritto che quello che soppicava non soppica più non dobbiamo fare niente di strano niente così la fede viene di ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo dove è finito Nico Isaia 55 ok Isaia 61 53 lo spirito del signore di Dio è su di me perché il signore mi è unto per recare una buona notizia agli umili e mi ha inviato per facciare quello che ha nel cuore spessato per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi l'apertura del carcere ai prisioneri hai visto lui ti dice già quello che devi fare non devi fare di testa sua è lui che metterà davanti a te un oppresso è lui che metterà davanti a te uno che sta ancora nelle prisionie è lui ma noi devemo essere solo predisposto e dire signore eccomi manda a me signore io farò papà ma prima di andare dobbiamo prepararsi andare in guerra pronti ogni giorno prendere l'armatura prendere la parola di Dio ogni giorno per proclamare l'anno di grazia del Signore il giorno della vendetta del nostro Dio per consolare tutti quelli che sono affritti alleluia permettere e per dare agli affritti di Sion un diadema invece di cenere olio di gioia invece di dolore il mantello di lode invece di un spirito abbattuto affinché siano chiamati querce di giustizia la piantagione del Signore per mostrare la sua gioia vede che bello ma qual è il papà che dà tutta questa responsabilità a un figlio qual è il papà il nostro hai dato che hai dato questo bellissimo regalo chi non si sente gioioso sapere che un papà confida in te non è bello è bellissimo sapere che c'è un papà che è ancora confida in te ma non perché lui ha bisogno di noi no siamo noi che senza del Signore non siamo nulla ma lui conta con ognuno di noi conta su di noi conta su di te hai capito conta su di te alleluia Gesù ok e stiamo già finendo che stiamo andando alla conclusione come la la pioggia e la neve scendono dal cielo e non e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra senza aver fecundata e fatta germogliare affinché dia semi al seminatore e panni da mangiare alleluia Matteo ah sempre Isaia così è della mia parola uscita dalla mia bocca essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto e a buon fine ciò per cui le ho mandata hai visto la parola di Dio non torna a vuoto non torna se lui ha detto che farà nella tua vita aspetta lo farà signore ma troppo tempo ancora signore non vedo niente non succede niente aspetta se hai detto che farà lo farà lo farà perché il tempo del signore non è nostro quanti prima di noi hanno aspettato addirittura 40 anni e sono stati lì fedeli tu vedrai la terra promessa e così è stato così è stato no perché lui non è un uomo per dire bugia noi quando scegliamo un conduttore un politico no noi crediamo abbiamo fiducia in quella persona e molte volte quelle persone si deludono è così anche noi molte volte deludiamo il signore c'è presente Giuda il signore sapeva che Giuda era un ladro sapeva o non sapeva che sapeva che deveva tradire sapeva ma che cosa hai fatto il signore mi hai detto Giuda vai tu mi devi tradire non devi stare più in mesa noi hai fatto così hai ricevuto il suo abbraccio e pure il suo abbraccio vai fa quello che c'è da fare hai visto sa perché chiesa perché lui non cambia la sua essenza lui è amore lui è amore è maestro ci deve insegnare l'amore tu immagina che suppostamente lo so che mio marido mi deve tradire o mi sta tradendo viene da me per mi dare un bacio torna a venire a baciarmi perché tu è così di vera regola doveva essere così no è difficile però dico vai e fa quello che devi fare ma attenzione che c'è un Cristo che ti guarda è così vede la differenza perché se no non siamo diversi dagli altri chiesa so che molte volte andiamo nella carne e ci sta ci sta ci sta ci sta passare per la carne ma non rimanere nella carne ci sta pecare però però non rimanere nel peccato signore ho peccato che faccio mi nascondo del signore come è fatto Adamo e Eva lui aveva un progetto per Adamo e Eva no va e moltiplica sulla terra è vero ma lui che ha fatto non è moltiplicato più no il suo progetto è continuato attraverso Abramo no il papà della fede Abramo vede così sarà la tua generazione come le stelle del cielo infinita anche noi facciamo parte della generazione di Abramo nel nostro DNA c'è anche il DNA di Abramo di Adamo ma il DNA che prende sopravento il DNA che porta avanti la nostra vita è uno quello di Gesù nel nostro sangue sta il DNA di Gesù Matteo Alleluia Gesù e Gesù avvicinandosi parlò parlò a loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra continua Nico andate andate dunque a fine fine dell'età presente hai visto signore ma tu ci sei io sì e tu sei pronta signore devo andare lì a casa della mia vicina e evangelizzare ci sei ci sono sempre non ti lascio quindi basta chiedere ma il signore è con me ma il signore è dimenticato di me ma io non ce la faccio più basta io ci sono qua il signore Gesù sta confermando cento per cento io ci sono io ci sono fine all'età presente per sempre però però attenzione chiesa un giorno sarà ritirato lo spirito della terra hai capito e sarà quando Gesù tornerà quindi ascoltiamo ancora lo spirito santo i nostri consiglieri il nostro avvocato il nostro giudice ascoltiamo ascoltiamo in quanto c'è tempo non per forza ma per amore alle opere di Gesù Cristo non ti sentire oggi ma quanto il signore è dato oggi no sentite onorato rinnovati perché se lui parla ancora è perché ancora c'è tempo è vero diacono alleluia ultimo verso andando predicate dite il reino del cielo è vicino il reino del cielo è vicino gloria gloria è bene padre io voglio essere quello figlio obbediente signore andiamo in preghiera questa mattina andiamo da papà a dire signore io sono già una nuova creatura signore signore io non voglio più sporcare le mie vestiti signore io voglio essere pronta e adornata perché so che tu sta arrivando e io ti voglio dire sì sì e sì per tutta l'eternità amè gloria alleluia